Nel pomeriggio di oggi potrebbero arrivare dei provvedimenti nei confronti delle tifoserie di Roma e Napoli per gli scontri sull'A1, lo ha detto il Ministro Piantedosi. Ascoltiamo un passaggio dell'intervento. Io adotterò un provvedimento, probabilmente lo anticipo qui. Oggi pomeriggio a rientro e che, come è stato in parte anticipato, valorizzerà quello che è stata un'istruttoria, un'analisi che è stata fatta dal Comitato di Analisi sulle manifestazioni sportive. Quindi con qualche provvedimento sanzionatorio per le due tifoserie. La misura di ordine pubblico è di prevenzione per i prossimi due mesi per quanto riguarda le trasferte delle tifoserie di Roma e Napoli. Questo, secondo quello che si è detto, non è alternativo a misure individuali che cerchino di responsabilizzare i singoli autori.